Hai atteso tanto questo mondiale di Anterselva, prima gara è subito sul podio, modo migliore non poteva esserci per iniziare? No, sicuramente no, magari se c'era ancora l'oro in paglia, però sono molto contento di poter portare a casa questa medaglia, gli ultimi 100 metri erano speciali e fantastici e veramente ha avverato un grandissimo sogno. Hai corso secondo me proprio da campione del mondo oggi, perché comunque dopo il poligono che avevi qualche secondo di svantaggio su Ionesbolo sei andato anche a riprendere, ciò significa che hai carattere e avevi anche fiducia nei tuoi mezzi? Sì, sentivo che stavo molto bene e anche che gli sci oggi andavano benissimo, quindi ho detto anche provo subito a recuperarlo, così stando lì dietro posso recuperare un attimo. E poi addirittura è successo che l'ho passato perché mi sentivo bene, ho fatto il mio ritmo e non volevo poi risparmiare troppo perché quelli dietro magari si avvicinano, quindi ogni secondo che puoi recuperare è sempre un secondo guadagnato. E alla fine ho fatto il mio anche al poligono dopo in piedi e sono contento.